Mentre ancora nulla si muove sul fronte mercato, con i dirigenti rosso-blu che non sono riusciti a chiudere nessuna trattativa a sinora, i calciatori agli ordini di Nicola continuano la preparazione per il prossimo incontro. Anche ieri, infatti, il tecnico piemontese ha fatto svolgere allenamento nelle ore mattutine e sempre sul terreno del parco Ionio di Steccato di Cutro. Un importante lavoro tattico ha preceduto la partita a tutto campo, nella quale il mister ha provato a far applicare gli schemi studiati precedentemente. La partenza dalla carovana rosso-blu direzione Genova è prevista per venerdì pomeriggio dopo aver effettuato l'ultima sessione di allenamento, al termine della quale parlerà Davide Nicola. Intanto ascoltiamo le sensazioni di Stoian a due giorni da Genova a Crotone. L'obiettivo è sempre quello di andare ogni campo e fare la nostra partita e provare a fare le cose che chiede il mister. Poi a fine partita spero che stavolta non saremo rammarici dopo le ultime partite che comunque facciamo delle buone prestazioni, però manchiamo nel finale. Genova, a parte le ultime partite che è andata un po' in difficoltà, sappiamo che ogni anno è una buona squadra. Poi sicuramente con l'arrivo di Urić qualcosa in più hanno guadagnato, solo che loro si trovano ora in un brutto momento e dobbiamo andare a Genova e fare la nostra partita sapendo che pure loro sono in difficoltà. Giustamente fa gara per gara perché due ne non puoi giocare una volta. Poi ogni partita ci sono dei punti in palio che speriamo di ottenerli o uno o tre. Sarebbe meglio tre, però comunque sappiamo che Marassi è un campo tosto, uno dei più belli d'Italia. Come tu hai detto, proveremo a giocare la nostra partita a Marassi e poi dopo si vedrà.